L'Unione Europea per me rappresenta un'opportunità che viene data comunque alle regioni, ai nostri commercianti, agli agricoltori, agli imprenditori. Noi speriamo che l'Europa possa effettivamente essere vicini ai popoli. Ho mandato una lettera come sono arrivata ai sindaci del mio territorio, della regione Campania, ai quali ho detto di usarmi come strumento per far sì che possa io portare le loro istanze qui e fare in modo che insieme a loro si possano risolvere determinati problemi, perché l'Europa è quella che oggi dà l'opportunità a tutti quanti noi di poter vivere e poter realizzare le cose da farsi.